il 104 è stato fatto su questo giudizio questo proposta di kelly johnson aveva stato piano era bellissimo aeroplano ma per far la guerra ci vuole altra roba cioè non se ne può parlare dopo ma comunque insomma era bellissimo aeroplano arriva sto signore che doveva comprare cioè gli è stato graziato lui tedesco è stato graziato dalla dal mondo perché gli americani che volevano i tedeschi guerrieri nella nato no perché era una spalla io a quell'epoca ero già un maggiore tenente colonnello e avevo qualche accesso a qualche c'era insomma c'era questo terrore finita la guerra in corea che li ha abbastanza scioccati gli americani non li ha fatto del gran bene era questa russia che premeva sul sull'europa e le stime fatte io ho fatto due volte la scuola di guerra aerea non perché m'ha bocciato ma perché era una e poi l'altra superiore e si facevano degli studi seri su sta roba non li facevo io ma me li passavano da studiare era era questo orso russo là in fondo che premeva sempre di più sull'est su sull'ovest per venire e la stima era che in 45 giorni e forse meno quando avessero voluto muovere arrivavano all'atlantico in 45 giorni e noi la nato doveva non era organizzata per rispondere a uno che in 45 giorni attraversa l'europa attraversa le pianure perché noi l'italia non avevamo problemi in montagna qui con i carri armati russi che erano migliaia la che aspettavano non avrebbero ovviamente mai usati ma noi eravamo la piattaforma di arrivo dei rifornimenti la strategia era più o meno questa che la nato l'america che proteggeva che era lo scudo di questa nato aveva bisogno di una due tre settimane per incominciare a mandare gli aiuti all'europa per resistere a quest'onda rossa che sarebbe se l'aspettavano l'aspettavano e e quindi non poteva essere fatta se non riarmando la germania fine e non c'era altrimenti per la germania era il cuscinetto fra la russia e l'est e l'ovest dell'europa fine e e allora diceva volemus ebbene abbiamo abbiamo fatto la pace stracciamo il coso adesso detto in soldoni ma stracciamo il trattato di pace fine e quindi questi avevano la scendaliante e dice mo su cosa vogliamo ecco e e diceva fanno il giro dei quattro capi di stato maggiore dei della nato con l'italia la francia col de go si era chiamata fuori no dalla nato dal non era nato sera era fuori e quindi c'era c'era l'italia c'era la c'era la spagna ma neanche tanto la grecia neanche tanto tipo i popoli lì non la nato non li ha mai voluti veramente loro non volevano entrarci e poi c'erano le nazioni in piccole il belgio l'olanda in l'inghilterra che poi ne è uscita dalla uscita la nato non è stata già il gli aeroplani successivi l'inghilterra non c'era più abbia fatto il tornado insieme ma poi se serve il racconto di quelle hanno abbiamo avuto dei problemi e e quindi queste quattro nazioni e potevano permettersi 150 aeroplani cada cranio basta e quindi questi quattro signori forse cinque non mi ricordo più quante beh insomma sono i nomi perché erano una cosa ciclopica cioè questo perdono improvviso praticamente alla germania dei 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 tutto l'esecrabile che l'era stato vomitato addosso per la guerra tutto in un colpo ha corrisposto al la risposta del capo di stato maggiore che dice voglio non 150 ne voglio 970 di quelli lì il mondo si è fermato perché è una una germania va evidentemente bisogno di fare il salto tecnologico perché ciascuna di queste quattro cinque nazioni quanti erano avrebbe costruito avrebbero conferito alla nazione la capacità di costruirsi l'aeroplano che avessero scelto quindi quindi era un salto tecnologico formidabile perché venivano i soldi dall'america dell'america faceva lei stessa una grossa acquisizione tecnologica di tutta sta massa di gente che poi andava rifornita andava manutenuta andava è tutta una roba che girava intorno all'america però direttamente a queste nazioni quello dice ne vogliono 900 a questo punto zittisce tutti gli altri zittisce tutti gli altri perché gli altri ne vogliono 100 100 120 150 non mi pare 120 ne volevamo perché le faceva la fiat e va bene e tutti gli altri sono stati zitti e diceva beh prendiamo questo che vuole il tedesco perché non c'è possibilità di scelta e e così è andata e hanno incominciato a discutere ea distribuirsi i lavori e il e hanno fatto su in america l'usa l'air force americana che era l'utente ma neanche perché era la lochid era roba lochid questa qui l'usa non aveva ordinati neanche se io non li voglio per fare la guerra non ha mai voluti quel per fare la guerra e non li ha mai usati per fare la guerra se non il 470 novesimo stormo che ha impiegato in vietnam con tre gruppi sullo stormo vi ricordo i numeri dei tre gruppi e il 479esimo stormo che è stato mandato in vietnam era già destinato all'air national guard quindi non all'air force ma l'air national guard l'ha mandato come air force in 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 vietnam ad anang per 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 vedere come si sarebbe comportato in guerra usandolo nei tre modi cioè da intercettore da caccia bombardiere e da ricognitore perché la nato voleva queste uno che facesse le tre cose l'america non ha mai fatto dei dei non mi ricordo una serie si ma non ha mai tentato l'america sempre fatto i grandi numeri perché aveva la forza di resistere di fare di progettare i grandi numeri noi invece abbiamo sempre avuto i cento pezzi e ne fa i cento in maniere che possono essere usati da intercettore da calza bombardiere e da e da e da ricognitore o quello che è anti sommergibile abbia fatto con 35 l'abbia fatto qualche moderni io ero nel progetto del del coso e abbiamo avuto dei problemi terribili con questo con questi aeroplani perché vogliamo questa poliformità che non può essere data perché 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 è costosa gli americani lo sanno che è costoso quando ci sono i soldi da spendere non li spendono a lamber e quindi vabbè hanno preso sta cosa qui ed è nato su 104 perfetto 304 che ha incominciato a essere sperimentato a edwards in america e nella base tedesca dove hanno incominciato a preparare i piloti tedeschi che era luke air force base in arizona e di fianco c'era la nostra insomma c'era c'era nellis dove si andava a sparare c'era erano tutte lì nel deserto ste basi sperimentali perché nel deserto non c'è anima viva quindi possono partire fare star bassi da ratti sono andato a fare delle prove sul bombardiere dopo quando c'era io ero già sul centro quale al giorno è stato maggiore dopo il 104 tanto fare le prove sul sulle sul sul bombardiere il 111 il quale bombardiere aveva un autopilota che volevano mettere sul sul nostro sul nostro aeroplano europeo che andasse che facesse la navigazione a bassa quota a 200 piedi sonica e supersonica a con terrain following automatico fatto in autopiloto salto farlo sul deserto del del mojave in america abbiamo volato lì c'ero io c'era i tedeschi e c'era i tedeschi e gli olandesi mi pare romi in tre a volare su sta roba a vedere ed è la roba cioè volare a mac 1 e 5 a 200 piedi da terra sul deserto cieco cioè senza vedere cosa c'è fuori ti fa un po paura perché tanto strano plano risponde un po cioè non è non è smuto un aeroplano a quella velocità che deve rispondere alle asperità del terreno inter inter in following da solo senza era una roba non è mai stato usato poi le f111 in guerra credo che l'abbiano persi in vietnam devono averne le han provate ne ha persi due o tre a fare sta roba ma eravamo andati giù perché avevamo il problema di questo aeroplano il nostro che il radar il radar emette delle onde che servono per quello che deve fare se vuoi fare l'intercettore ai delle onde molto corte molto piccole perché hai da intercettare degli oggetti lontani che sono piccoli se tu vuoi usarlo come terrain following per evitare le montagne la collina gli ostacoli ai bisogni di altre onde è un altro tipo di radar completamente è un'altra storia e e questa cosa non 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 si può combinare con una stessa con lo stesso apparato noi volevamo arrivare a questo insomma facciamo abbia fatto delle accezioni veramente eccessive non so se a quell'epoca conoscevo frequentato ancora conosco e frequento il franco bonazzi che era un collaboratore della fiat che volava volato fatto i primi voli lui ha presentato alla nato franco bonazzi era già la fiat non era più aeronautica ha presentato l'f 104 allo stato maggiore italiano quando si sono quando i tedeschi si sono infrocciati sono caduti tutti e quattro nella presentazione al loro capo di stato maggiore in america a base di se loro tedesca tedeschi hanno voluto strafare anche lì hanno nel suo brutto di no nome non è bello che io dica questa cosa perché perché sembra che siano delle cose stupide invece sono state sicuramente ragionate avevano una una valida ragione d'essere però i risultati sono stati quelli hanno fatto davanti al loro capo di stato maggiore quando hanno presentato gli aeroplani come franco bonazzi l'ha presentato al nostro il nostro stato maggiore in america perché era nato lì stava vivendo lì l'f 104 e qui non era ancora arrivato i tedeschi che ne avevano ordinati questa stragrande roba e cosa ha un fatto ha presentato una pattuglia acrobatica nessuno ha mai fatto una pattuglia acrobatica con gli f 104 perché hanno dei delle velocità dei raggi d'azione dell'azione di curvatura che non sono compatibili con la visibilità che deve avere o lo show che deve fare una pattuglia acrobatica e loro l'hanno tentata subito mai nessuno l'ha fatta loro l'ha fatta quella volta lì coi prototipi coi primi e si sono infilati tutti e quattro nella pattuglia di 5 c'era il solista era solo perché era isolato era solista e quindi lui si è salvato perché non era informazione ma tutti e quattro sono finiti per terra facendo insomma una figura un po un po un po così perché insomma sei l'ultimo arrivato nel gioco bravissimo perché sei tedesco di grande germania va bene però credo dopo dopo anni di pausa pigliti un po di tempo per toglierti la ruggine delle giunture invece non se lo son preso insomma e noi siamo andati su all'epoca i piloti andavano a norvenich a imparare e questo era un pessimo addestramento andavano a imparare in questa scuola tedesca c'erano i piloti italiani erano tre piloti italiani poi quattro e che però il programma era quello tedesco e facevano cinque missioni una di destra me 5 missioni all'epoca il programmi con me a memoria ricordo che devi cinque missioni e poi senza coi di posto coi di posto tedeschi tedeschi ce l'avevano il posto a norvenich facevano cinque missioni di posto e poi tornavano a casa in italia in attesa di volare ancora da soli cioè ancora da soli noi di posto e non avevamo in missioni operative ma era troppo presto cinque missioni di 104 non puoi interrompere poi per un mese o due tra la licenza l'amorosa il mtu queste cose di burocrazia italiana e poi metterti a volare con la f 104 dopo un mese che non vuole non si fa quella roba di fatti sono successe cose che non dovevano e si sono tutti poi riversati sul nostro gruppo del ventesimo che finalmente ha cominciato avere i primi 11 aeroplani per farli volare almeno due missioni con un istruttore dopo dopo un mese che stavano seduti per terra e le cose hanno incominciato andare bene perché però noi eravamo quattro gatti le mie fotografie di gruppo il gruppo dei piloti c'era sto questo angarone con tutti i tecnici che erano non lo so diciamo intorno ai 100 tecnici che lì con il capo tecnico che era il buon rolandi il buon rolandi angelo che eccellente noi abbiamo dalla gente che non ci meritiamo da quanto è brava e di qui c'erano gli istruttori col comandante di quel momento del gruppo ed eravamo sei sette ecco l'epoca lì poi abbiamo sei sette istruttori da fare tutta l'aeronautica militare italiana ero proprio tanto facciamo e per questo che facciamo uno stragiare mare di ore il mio il lamos chisoni che noi abbiamo incominciato a prelevare gente dal gruppo dall'altra parte della pista che erano piloti operativi che magari 12 ce lo ce lo davano sull'impresa ora abbiamo fatto il corso istruttori e l'abbiamo messi in condizione di fare l'istruttore e sono rimasti che sono questi nomi che ho detto ma ma eravamo sotto sotto misura naturalmente perché facevamo facciamo la storia che poi racconterò quando parleremo del ventesimo gruppo il teresimo gruppo ha fatto delle cose al di là delle sue forze assolutamente che forse non doveva neanche fare perché quando fai fuori dalle sue forze se succede qualcosa è lì può subito da leggere di murphy batte picchia lì quando sei fuori dagli standard quando sei fuori dagli standard non bisogna andarci e noi ci siamo andati ma abbiamo mantenuto la gli standard nato i 17 mi pare fossero 17 aeroplani in forza a ogni storm che doveva per restare essere la nato dove avere i 17 aeroplani combattredi i piloti per i 17 aeroplani combattredi e il munizionamento per l'aricolo allora la nato accettava se no diventava una partecipazione italiana smicchiata nella nato perché non gli mancava due ruote una cisterna per rifornimenti robe che sono le robe che ci sono capitate frequentemente e quindi abbiamo abbiamo dovuto tappezzare mettersi in a top abbiamo avuto come incidenti ne abbiamo avuto in ventesimo abbiamo avuto niente cioè siamo stati benedetti da dio pur facendo delle cose fuori dalla norma perché avevamo della gente fuori dalla norma avevamo quando chiedevamo qualcuno importante o sportante che fosse al gruppo perché indispensabile ce lo mandavano perché non so la missione del mal noi intanto per mandare un reparto facevamo facevamo una un corso di qualcosa come una una ventina di missioni tedeschi ne facevano 5 e poi ti mandavano al reparto a combattere non era pensabile che fosse safe una cosa del genere di fatti non era 6 noi ne facciamo 20 il maglio giamona piuttosto che tutti questi ragazzi qua hanno fatto tutti questi voli e di fatti non si sono ammazzati perché abbiamo avuto molto meno morti all'inizio perché perché eravamo nel safe side della curva insomma e tedeschi no non lo sono mai stati perché voleva avevano la fretta era probabilmente una ragione politica che giustificava anche i sacrifici umani e non lo so però li hanno fatti i sacrifici umani e non lo so se lo meritasse in tempo di pace come quello era e hanno fatto era fatto io il mio gruppo era il mio gruppo era era siccome era quello che faceva più ore in italia e aveva il ventesimo andava a rappresentare l'aeronautica italiana nelle riunioni di sicurezza del volo dei tedeschi che quando avevano questi grandi incidenti si 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 rivolgevano agli altri dicendo voi come 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 gestireste sta roba e questi qua glielo dicevano non io perché non valevo niente ma i generali lo spiegavano gli mandavano gli esperti più o meno che eravamo noi del ventesimo perché facciamo più attività di tutti e non cadevano i nostri urbani non cadevano e quindi ci mandavano giù dato su il ventesimo andava su spessissimo anche nardini non mi ricordo stelio nardini grande pilota grande comandante capocorso sciabola d'onore del corso dell'ibis insomma era persona eccezionale pieno di 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 conoscenze di buon senso ma lì sono stato tante volte siamo andati su insieme e questi questi non 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 recepivano volevano tipico quello e ora quella dell'ossigeno insomma quello dell'ossigeno è stata è stata la la goccia che ha fatto travasare il vaso insomma che erano questi morti per intossicazione da ossigeno quando bastava purificare prendere l'ossigeno sanitario insomma che non fa morti negli ospedali insomma e ne ha fatto un po di tutti i colori grazie 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 grazie